Il 2024 è partito per l'Amberet con tante novità molto interessanti per i clienti del nostro settore. L'Amberet cresce in struttura, con risorse professionali inserite nel corso del 2023, qualificate per dare un boost alla nostra presenza nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Oltre a fornire consulenza specializzata nel settore delle carazzerie frigorifere, ci poniamo come interlocutori unici e come unico punto di contatto per la gestione del processo di acquisto degli utenti automotive, garantendo consulenza sulle scelte del veicolo più adatto alle varie mission, scelta della tipologia di trasformazione più adeguata ad eseguire sul veicolo, programmazione e acquisto diretto del veicolo dai costruttori o dai dealers, concordando e gestendo la formula di finanziario di noleggio adeguata alle esigenze di ogni azienda, completandola con l'offerta di tutti i servizi necessari, sia di manutenzione del veicolo e della trasformazione, che assicurativi. Altra grande novità per noi è il debutto dell'erogazione del servizio di facility management per il settore automotive, cominciando dalla nostra sede del centro Italia. Qui ci occupiamo di tutti i processi per la gestione del parco veicolare, seguendo un'analisi della flotta e delle esigenze in termini di servizi da arrogare all'utente che si affida l'Amberet, quindi dall'arrivo del veicolo alla sua trasformazione, fino a consegna presso la sede del cliente, nonché lo stoccaggio e la gestione per conto dei clienti di migliaia di veicoli che attendono il loro inflitting. L'Amberet si pone oggi come consulente specializzato per la mobilità e il facility management.